Oggi abbiamo questa Audi A1 che montava all'origine lo schermo base RMC, quindi senza navigatore. Abbiamo montato lo schermo CarKit, la potete trovare direttamente sul nostro sito su carkit.it Qui abbiamo la connessione CarPlay, wireless, vediamo un po' le funzionalità di questo dispositivo cui ecco CarPlay con tutto quello che ci serve qui siamo in modalità Android abbiamo anche applicazioni che possiamo scaricare comunque dal Play Store, Google Maps e motore di ricerca è tutto quanto ok video in musica della usb si può richiudere tranquillamente come l'originale a primo eccolo qui un dispositivo molto molto bello che praticamente va ad integrare le funzioni più utilizzati in questa bella A1 alla prossima